La nostra sponsorizzazione Abbiamo presentato oggi la nostra sponsorizzazione con il team per eccellenza che rappresenta l'Hockey Club Svizzero, l'Hockey Club Ambrie Piotta. Una sponsorizzazione che abbiamo fortemente voluto, proprio a segnare l'unione fra le eccellenze, le eccellenze nel gioco dell'Hockey e l'eccellenza, lasciatemi dire, nel gioco del Casino. Siamo molto contenti e vediamo in questa cooperazione, speriamo, un amore a lungo termine e faremo tutto dalla parte nostra per far crescere questa cooperazione e di conseguenza anche i nostri successi sportivi. È un binomio vincente perché anche sul lato territoriale noi con l'Admiral spingiamo anche la nostra presenza su parte internazionale e turistico e penso che Ambrie porterà tantissima visibilità anche all'Admiral e di conseguenza sì, la vedo molto bene. Nel mondo dello sport, nel mondo dell'Hockey, è molto importante avere una squadra vincente, ogni giocatore aiuta i suoi compagni in pista. A Casino è più o meno la stessa cosa. La nostra idea, il nostro progetto era rinforzare il legame con il territorio, con il territorio ticinese. Essendo qui da più di 20 anni sappiamo quanto è importante l'Ambri Piotta per il Ticino. Il Casino Atmel è qui da oltre 20 anni, abbiamo aperto nel 2002 le nostre porte. Siamo qui nel territorio, siamo qui con il territorio, siamo qui per il territorio. Forza Ambrie, Forza Admiral. Forza Ambrie e Forza Admiral. Forza Ambrie e Forza Admiral, sempre.